Vale lo stesso principio per altri numeri sulla buona scuola. Sul fondo per l'edilizia scolastica era 110 milioni e di solito veniva assegnato verso novembre quest'anno sono 223 milioni. Se vi chiedono di portare da casa la cartigenica sappiate che stanno facendo una cosa che comunque non ha senso perché i fondi per il funzionamento delle scuole quest'anno ci sono e molte scuole 1643 per la precisione hanno visto nei mesi estivi un lavoro certosino di restauro e di restyling in alcuni casi di rimessa in sicurezza totale ex novo perché grazie al lavoro sull'edilizia scolastica la buona scuola è partita innanzitutto da questi elementi dall'edilizia dalla sicurezza dei nostri figli.